Buonasera, sono Martina Palladini e si dà il caso che sono un'attrice. Allora, la mia carriera in realtà comincia quando avevo circa nove anni, quindi la passione per il cinema c'è sempre stata. Ho avuto modo di lavorare in diverse fiction, come distretto di polizia, tutti i pazzi per amore, un medico in famiglia. E da lì non ho più lasciato né il cinema né il teatro, tant'è vero che mi sono diplomata come ballerina all'Accademia Nazionale di Danza nel 2018. E contemporaneamente ho portato avanti anche i studi e il lavoro come attrice. Ho avuto modo di lavorare in due film, uno con la reggia di Giovanni Galletta e l'altro con la reggia di Stefano Calvagna. E più recentemente in un docofilm con la reggia di Luca Alessandro, intitolato Deep, che ha vinto anche al Festival di Salerno quest'anno. E che dire, ho fatto anche diversi videoclip e sono fiera di questo anche perché penso che la musica... In realtà tutte le arti siano connesse tra loro, sia dalla recitazione alla musica alla danza a ogni sfumatura d'arte. E i videoclip sono con Cesare Ruschel, non so se lo conoscete ma è il figlio del grande Renato Ruschel. Quindi arrivederci Roma penso la conoscano un po' tutti. Ho avuto modo di lavorare con la band dei Marcondiro nel videoclip Amati con la reggia di Daniele Cipri. E in altri come uno spot contro il femminicidio, sono molto attiva anche su questi ambiti. Niente, sono emozionata per questa sera, spero di essere stata sintetica e niente, buona serata.